Effetto BlackRock su Bitcoin e parte il super pump anche questa volta che brecca il canale discendente che teneva il mercato cripto e Bitcoin soprattutto in trend ribassista dal 14 di aprile breccato questo canale da manuale di analisi tecnica sulle news relative all'effetto BlackRock di cui parliamo in questo video parte un nuovo trend dove può arrivare questo nuovo trend la fase ribassista iniziata ad aprile termina con questo breakout può riprendere ovviamente una struttura ribassista diversa ma non fa parte della precedente inizia probabilmente un nuovo ciclo trimestrale da attese come quelle che stavamo aspettando dagli altri video inizia concomitante anche un ciclo semestrale tutto quello che vi ho detto nel video di lunedì si è verificato alla perfezione compresa la forza relativa di Bitcoin maggiore su Ethereum bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un video allegro un po' dopo due mesi che ci mancherebbe insomma ragazzi di queste di queste a fase ribassista di Bitcoin sono molto contento di vedere questo atteggiamento di Bitcoin tra le altre cose questo tipo di logica schioda anche un'ipotesi remota che era stata abbandonata lasciata lì a livello ciclico sulla struttura dei cicli inversi non ne parliamo mai qui ma interessante bella fichissima quella ipotesi magari ne parliamo poi in un altro video se si verifica tanto se non si verifica inutile che ve la dico perché non cambierebbe niente e invece tutto quello che abbiamo detto nei video scorsi soprattutto lunedì si è verificato ragazzi alla perfezione una ricetta perfetta dopo una serie di manipolazioni del mercato che hanno preso una serie di stop per cui anche il mio poi sono riuscito a rientrare man mano a gradoni in tutta questa situazione qui anche in academy siamo entrati da ieri in tutta questa situazione però gli stop ce l'hanno presi proprio perché era una fase estremamente manipolata ragazzi e quindi anche più forte devo dire la verità perché le fasi manipolate su bitcoin in questo caso sono più forti quindi oggi andiamo a parlare di tutte queste cose le notizie sono legate a una presentazione di richieste per quanto riguarda gli etf anche da grandi da grandi aziende americane che comunque detengono grandissimi patrimoni in gestione sotto etf tra cui wisdom 3 e in vesco anche tra le altre cose insomma vi faccio vedere tutto in questo video prima però di andare a vedere questo video vi devo dare una minuzzo stanno lanciando un nuovo exchange ragazzi un nuovo exchange estremamente interessante di cui penso parleremo anche nei prossimi video in maniera estremamente interessante ci sono e mi sono fatto dare delle promo non è un video sponsorizzato già ve lo dico però mi sono fatto dare delle promo perché l'exchange mi interessa per una cosa mi sono fatto dare delle promo esclusive per la nostra community esclusive in italia e sono molto ghiotte perché sono ricompense in valorizzazione di etirium abbastanza rilevanti ragazzi quindi ascoltatevi un attimo perché quando lanciano un exchange è nuovo non è mai uscito lo lanciano devono anche testare la piattaforma quindi vi pagano semplicemente perché la usate una specie di airdrop però in versione checks non dex no è così quindi vi stanno pagando per fare questo non c'è neanche che così quindi insomma è un passo gratis in questo caso allora come funziona coin call ragazzi questo è un exchange che si occuperà principalmente di fare trading di creare diciamo attività sul trading dei derivati e delle opzioni a me interessa soprattutto la questione opzioni e anche i derivati quindi è un trading è un exchange che si lancia in questo modo ma a parte questo ci sono alcune cose che mi hanno interessato in particolar modo la questione legata alle opzioni che voglio vedere come la svilupperanno perché ci sono anche c'è anche terry bit ce ne sono altri però le opzioni sono sempre un po troppo costose nel mercato delle cripto quindi mi interessa capire come si svilupperanno quindi è un exchange a cui tengo particolarmente e poi è il primo exchange che non ha la custodia dei fondi ma l'ha assegnata a terzi quindi in pratica i fondi non sono depositati sull'exchange ma sono depositati su entity terzi che tra l'altro sono anche quelli che detengono la custodia di tutti gli altri utenti istituzionali quindi in pratica non saranno loro a fare lo store dei vostri fondi ma saranno gli enti terzi che sono copper cobo e creano lupo che sono i più grossi che esistono insomma quelli che già hanno a che fare con buy bit deribit ok x eccetera è interessante perché si lanciano sono giovani quindi magari questa cosa poteva essere particolare arriviamo alla questione ghiotta le promo ragazzi molto rilevanti allora ci sono tre promo una è standard per tutto tutta italia ragazzi che è questa che vedete le altre due sono solo sul link che vi lascio in descrizione e con il codice rep del nostra della nostra community e non è possibile accedere con con gli altri codici quindi vi conviene registrarvi appunto da questo in basso ragazzi per avere anche le altre due promo allora qui basta una registrazione con le mail appunto l'inserimento del codice rep che vi lascio in descrizione e potete partecipare ad avere due fino a due eth free in opzioni ora vi spiegano che che significa velocemente che significa vabbè qui in pratica ve lo dicono che se Ethereum riesce a salire il 1900 dollari entro l'apertura dell'exchange che avverrà in pratica alla fine giugno quindi il 30 giugno il primo di luglio lancia ricevete una earn di 200 dollari ovviamente se siete però in gradatoria perché qui è una gradatoria questa nazionale quindi è così è molto interessante comunque sono soldi gratis invece vi faccio vedere le opzioni quelle per noi che sono più interessanti allora prima promo esclusiva dal link che vi lascio in descrizione ricompensa di 0.1 eth in opzioni per chi fa un solo trade dal 3 luglio alle ore 12 riceverete 1.0.1 eth in opzioni ragazzi cosa significa significa che non è un valore di 180 dollari è un'opzione che vale 0.1 eth poi bisognerà vedere quanto quell'opzione vale quando andate a venderla ma potete comunque venderla anche direttamente e fare cash out dei dollari già ad oggi più o meno questo tipo di opzione vi renderà intorno ai 5 10 dollari circa giusto per farvi capire poi se eth si muove diversamente la vostra opzione ovviamente potrebbe valere anche di più fino addirittura arrivare appunto a 0.1 eth però vi ripeto sono gratis ragazzi sono soldi gratis questi ve li regalano seconda promo ancora più ghiotta la ricompensa di 1 eth in opzione call se fate trading per 6 giorni consecutivi dal 3 al 10 luglio basta fare open e close cioè non è che dovete starci lì giusto per testare l'exchange ragazzi quello vogliono vogliono che testate non la piattaforma riceverete un'opzione call del valore di un eth con strike 2005 questo cosa significa significa che non varrà ovviamente un eth ma sarebbe troppo ghiotto però più sale eth ragazzi più quell'opzione assumerà valore per esempio già quelle che regalano in promo ad oggi valgono 200 dollari circa quindi un'opzione del genere può essere anche che riesca ad arrivare tranquillamente a 100 dollari quindi se sommate tutte le promo vi rendete conto che sono oltre 2-300 dollari di opzioni possibili solo per una mail non c'è che vuoi sì vi lascio il link in descrizione partecipate a queste due cose poi quando lanceranno andremo a testare questo exchange io vi faccio già un'anteprima della piattaforma ve la faccio vedere velocemente interessantissimo insomma carino insomma un nuovo exchange va bene più che altro ve la trovo una specie di di airdrop da checks andiamo a bitcoin allora partiamo subito dalla questione legata a cosa è successo ragazzi è successo questo wisdom tree presenta un bitcoin trust insieme a blackrock si associa poi ivesco che è praticamente sotto gestione ragazzi 1.5 trillion di management e anche lui si associa la richiesta quindi feeling della bitcoin etf a cui si associa anche poi un exchange fatto da schwab citadel è un exchange che è nuovo edx market che in pratica si avrà anche il training delle crypto e insomma anche tra le altre cose poi abbiamo in europa deutschbank che fa anche la richiesta per avere una insomma dei digital per avere la licenza di gestire digital asset e di fare la custodia insomma si sono svegliati gli istituzionali dopo la richiesta di blackrock ma è ovvio che anche sia così perché se un colosso come blackrock fa una cosa del genere tutti salgono sul carro ragazzi perché non devono perdere il treno immaginate cosa succede e quale pressione ora in questo momento sta subendo la sec da una richiesta massiccia dei più grandi fondi di etf americani con i più grandi la più grandi asset under management che esistono e sono tutti lì a richiedere alla sec quindi ok la sec magari dirà la sua però sicuramente le possibilità di un etf bitcoin nella più grande economia finanziaria del mondo negli Stati Uniti si vanno a deneare in maniera più consistente questo significa anche che ci saranno acquisti di bitcoin in termini cash per fare riserva in questi exchange un po' come fu nel 2017 quando fu lanciato il future del CME che è l'ultima gamba dei rialzi del 2017 ragazzi furono proprio derivati dalla questione dei future e quindi giusto per farvi capire la struttura della gamba del 2017 questa zona qui fu la struttura di rialzo del bitcoin ovviamente valeva pochissimo quindi impensabile avere magari quella fase di rialzo ad oggi sicuramente non ci sarà però interessante capire l'impulso ora detto questo significa che da qui saliamo e basta allora intanto ci sono due scogli principali punto primo la questione ciclica tecnica che infatti adesso andiamo a vedere punto secondo la questione invece legata al fatto che la sec posso anche semplicemente dirgli che non glielo dà quindi nel momento in cui c'è un grande hype come questo in questo momento e la sec poi a un certo punto boccia comunque la richiesta di blackrock e non si esprime in questi giorni non cambierebbe poi sostanzialmente niente anzi ci sarebbe un topo perché non c'è l'oniuso negativa quindi in questo caso occhi puntati anche su queste cose però è una forte pressione da parte degli istituzionali di bitcoin sulla degli istituzionali sul mercato crypto su bitcoin anche per questo infatti quello che noi avevamo visto nella scorsa video del lunedì andatelo a vedere sarà importante cioè la questione che io vi dicevo che avevo preso la mia decisione che per un tot di tempo andavo a prendere holly bitcoin escludendo eth fino a qualche settimana si è andata a deneare in maniera corretta infatti poi da questa settimana siamo già a meno 4 di ethereum contro bitcoin questo significa che io sto performando meglio con il mio portafoglio del 4% in questa settimana avendo preso tutto bitcoin e non avendo sguicciato e quindi diversificato su ethereum ma è temporanea questa cosa ve l'ho spiegato nel video del lunedì non mi ripeto andatelo a vedere ma anche questo è a base ciclica ragazzi ve lo dico perché qui stiamo andando in chiusura di un ciclo quadriennale molto importante siamo in questa zona che vi dicevo cono d'ombra lo chiamo così questa zona di chiusura di un ciclo quadriennale di ethereum btc mi interessava fare una cosa del genere quindi sono andato a creare diciamo questo tipo di struttura un po' più monotematica ora andiamo al livello ciclico e capiamo dove siamo e anche a livello di analisi tecnica per capire i livelli di resistenza perché c'è un livello di resistenza ed è molto importante ed è anche significativo se bitcoin lo brecca velocemente e vi dico un'altra cosa se lo brecca velocemente non è buono pensate un po' potrebbe non essere buono diciamo così che è più corretto allora qual è il livello in questione il massimo del 14 di aprile prezzi bit stamp in questo caso sono circa 31 mila dollari poi se andate a vedere quelli di binance probabilmente sono un po' più alti se non sbaglio perché binance mi pare che faccia abbia dei pricing più alti vediamo 31.170 esatto quello di binance però il livello di massima concettualmente è questo circa 31 mila dollari il livello di prezzo massimo se per caso bitcoin ci arrivasse in maniera estremamente veloce e fa una cosa del genere questo è negativo lo so che sembra strano che vi dica una cosa del genere è negativo dal punto di vista ciclico perché significerebbe che siamo in una struttura ciclica appartenente a un vecchio ciclo annuale degli inversi quindi è una cosa che non vi tedio perché insomma poi perdiamo solo tempo e quindi significa che in pratica stiamo andando a creare il massimo del ciclo annuale di bitcoin e la probabilità che poi si fa il massimo e poi si lascia 3-4 mesi di laterale ribassista è molto alta quindi se andiamo velocemente a fare questo se invece non andiamo velocemente a fare questo e bitcoin si ferma si ferma qui ci incischia perde tempo ragazzi è meglio perché poi lo slancio eventuale successivo avrebbe una valenza estremamente più importante ciò significa che se andiamo velocemente a questo livello di massimo è negativo se invece noi riusciamo a stare qui e a non crashare e poi abbiamo un impulso successivo cioè facciamo una cosa del genere per intenderci e poi abbiamo da qui un impulso successivo questo impulso è notevole ed avrà molta più valenza ed è molto più importante rispetto a una cosa del genere perché configurerebbe poi in quel caso una struttura ciclica tutta volta a rialzo e quindi molto più tempo per andare a fare nuovi massimi questo è il senso della questione ve l'ho tradotto in maniera molto logica poi magari sto registro pomeriggio un video in academy dove spiego in dettaglio tutta questa questione loro sono anche formati ovviamente sull'analisi ciclica in maniera importante perché hanno fatto il mio corso basic quasi tutti dove ce li sono i moduli ciclici ragazzi comunque i corsi sono in descrizione ogni volta me li chiedete anche con delle mail particolari che cosa devo fare se non ho formazione devi far corso o ti compri libri vabbè mi sembra sempre strano dirlo visto che è la stessa cosa che diciamo da anni allora questa zona qui è iniziato un nuovo ciclo di natura mensile ma la potenza di questo ciclo configura molto probabile l'inizio di un nuovo ciclo anche di natura trimestrale e quindi configura di conseguenza una struttura anche di un nuovo ciclo semestrale che dovrebbe essere iniziato proprio sul minimo del 15 giugno è un semestrale un po' cortino infatti io mi aspettavo un ciclo intermedio da qui a qui che facesse una specie di barra di congestione ma la notizia poi degli istituzionali ha avuto la meglio quindi in questo caso ragazzi ovviamente le news fanno la differenza potevamo perdere un po' più tempo qui mi sarebbe piaciuto anche di più ve lo dico francamente aver visto una cosa del genere dopo però vederla adesso comunque è accettabile se appunto non andiamo a iniziare una campana estremamente ribassista molto pronunciata perché una fase da qui che magari si mantiene perché vedete il mensile è ancora iniziato ma ci vuole un sacco di tempo per chiudere e insomma quindi potrebbe magari fare una cosa del genere e poi andare in questa struttura e chiudermi il mensile in questa fase perciò la soluzione in questo momento è migliore secondo me per il BTC è proprio quello di cincischiare da qui ai prossimi giorni qui siamo in direttura d'arrivo di un ciclo settimanale giusto per gli amanti della struttura ciclica e quindi siamo praticamente forse su un massimo temporaneo che dovrebbe poi andare a fare questa struttura ciclica non è tradabile in nessun modo se non siete dei trader esperti e degli analisti ciclici esperti non vi azzardate a fare un trade dicendo prendo profitto ora poi aspetto che non si fa così ci sono mille cose da andare a guardare ragazzi non vi sto dicendo quello vi sto dicendo che se qui vedete un riposo del mercato una fase di bassista sta chiudendo il ciclo settimanale da qui in poi inizia una nuova struttura e dovremmo andare a vedere perché io poi mi aspetto se questo ciclo mensile sarà rialzista come sembra che il mercato vada a fare il suo massimo intorno al 6-7 di luglio questa zona qui temporale potrebbe appunto tentare una zona intorno ai 30.000 e qualcosa barra 31 senza andarla a sporare dopodiché andremo in close del ciclo mensile truffona di questo rialzo alcuni pensano dicono è una truffa questo rialzo stiamo facendo una manipolazione è possibile tutto è possibile nelle crypto l'abbiamo visto migliaia di volte che succede se questo mensile è una truffona cioè andiamo a fare una cosa del genere e poi addirittura un boom cioè praticamente sarebbe un pump and dump mostruoso organizzato a tavolino e una cosa del genere succede che noi perderemo immediatamente forza da qui e non riusciremo in nessun modo a risalire al di sopra di questo massimo quindi un'eventuale poi fase di tentativo di ripresa configurerebbe un'inversione di breve con questo minimo breccato in questo punto e questo innescherebbe una serie di pericoli notevoli quindi questa è la più ribassista che potrebbe anche non fare magari nulla di che ma spingere a un pullback di questo canale discendente facendo una cosa del genere è possibile questo valutatelo quindi un mensile che non spinge appunto nella seconda parte ma ha fatto il massimo praticamente oggi una cosa del genere è un po' strano a livello di probabilità però questa è la più ribassista quindi se abbracciate l'una o abbracciate l'altra scegliete una di queste due view da un punto di vista tecnico vi faccio vedere l'ultimo grafico di oggi che è quello della dominance di bitcoin anche per farvi vedere che questo rialzo si configura anche come estremamente collegato anche alla dominance di bitcoin perché non ha non è assolutamente anomalo rispetto a quelli che erano le nostre attese anche sui cicli della dominance ve li ho mostrati è il breakout molto importante di cui stavamo parlando con questo ciclo annuale della dominance di BTC che sancisce l'inizio di un nuovo ciclo anche molto più importante di bitcoin che è la struttura quadriennale della dominance è una cosa molto più grande e quindi è questo un ciclo come questa parte qua ragazzi cioè durerà anni una cosa del genere è iniziato il settembre 2022 quindi fra un po' siamo già a un anno questo è il ciclo della dominance di bitcoin sta facendo il suo massimo siamo nella zona short cioè significa nella zona dove ci può essere l'inizio di una fase di chiusura e in effetti io questa zona qui poi l'andrò a valutare quando bitcoin avrà definitivamente fatto questa zona di pump una volta che è arrivata ai livelli di target perché l'andrò a valutare per sguicciare di nuovo su eth e altre cripto perché concettualmente siamo dopo giugno 2015 dopo il 15 giugno 2023 quindi attenzione perché ha un pump di bitcoin sostanzioso spesso poi è conciso dopo qualche settimana un pump delle cripto quindi in questo caso anche il grafico della dominance può darci questa indicazione quindi se questo pump di bitcoin ne regge poi fra un paio di settimane ci spostiamo a guardare questa cosa qui ragazzi e sarà interessante andare a fare anche il crypto picking perché secondo me può essere un buon momento e lo ribadisco anche di posizionamento proprio sulle altcoin che magari non ho sofferto tantissimo detto questo quali sono le vostre altcoin che preferite quelle che secondo voi hanno dei progetti rilevanti che sono interessanti da mettere anche in un portafoglio di lungo periodo io non faccio buy dei dip sulle cripto lo sapete ma seguo solo il trend ma se inverto nel trend perché no un buy speculativo si può assolutamente fare quale sono quelle scrivetelo nei messaggi scrivetelo al canale se ancora non l'avete fatto così seguite queste vicissitudini vi riuscirò il link di coin call in nuovo exchange con i soldi in money flying quelli che vi buttano dall'altro vi fanno queste ricompense per usare la piattaforma noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti